Tecnici e operai di RFI già a lavoro per ripristinare nei tempi annunciati circa 30 giorni i collegamenti sulla linea ferroviaria Caserta-Benevento-Ariano-Foggia-Lecce dopo il movimento franoso verificatosi il 12 marzo scorso all'interno della Galleria Starza situata tra Ariano Irpino e Monte Calvo. Lo smottamento interno alla Galleria, così come si evince dalle immagini girate proprio da RFI e come più volte ribadito da Trenitalia, avrebbe provocato la frana di un pozzo di areazione con lo scivolamento sulla rete ferroviaria di detriti, tanto da danneggiare anche la struttura. L'attenzione dei tecnici è concentrata anche sugli altri areatori dislocati lungo il tratto ferroviario che corre in Galleria per circa 3 chilometri. Un monitoraggio necessario per prevenire qualsiasi altro rischio di crollo. Il cantiere si è dunque insediato a pochi metri dall'imbocco della Galleria, sul versante che si affaccia verso Monte Calvo e Castelfranco in Miscano. Dopo i disagi registrati da parte dei passeggeri dei treni di lunga percorrenza, quindi Freccia Rossa e Intercity, nei primi due giorni di interruzione dei collegamenti tra Ariano e Benevento perché costretti a utilizzare bus sostitutivi da questi due scali, Trenitalia ed Italo sono corsi ai ripari. Niente bus sostitutivi da Ariano, ma solo da Foggia per chi proviene da Lecce e a Benevento per chi proviene da Caserta. Ad Ariano dunque arrivano solo i bus sostitutivi dei servizi regionali. Grazie. Grazie. Grazie.